Sono Fabio Corica di The White Room, eravamo The White Room ma siccome la D non lo diceva nessuno, abbiamo cambiato e ora siamo semplicemente White Room. Siamo qui a svilupparti per credo il quarto o il quinto anno consecutivo, portiamo come ogni anno i prototipi delle cose che facciamo. Come chi ci conosce sa bene non siamo una software house tradizionale, siamo piuttosto un gruppo che crea un po' tutto quello che è gaming, proprio a livello di giochi completamente diversi l'uno dall'altro. Shooter, adventure, pixel art piuttosto che 3D e anche quest'anno abbiamo un po' di tutto da far vedere con vari prototipi, tra cui anche giochi quasi completi perché da quest'anno forse riusciamo anche a chiudere dei prodotti e a sperimentare anche il lato commerciale. Ciao!